Delitti persecutori e lesioni personali pluri aggravate ai danni della fidanzata e reati contestati ad un giovane a cui è stata notificata la misura cautelare in carcere da parte dei carabinieri di Benevento su disposizione della procura locale. Le indagini sono state avviate in seguito all'istanza di ammonimento avanzata nel mese di marzo dalla donna, persona offesa da cui emergevano le gravi condotte moleste e minatorie cui l'uomo la sottoponeva d'agosto 2023. La donna non intendiva sporgere querela ma gli atti persecutori risultavano procedibili di ufficio. La donna narrava numerosi episodi nei quali l'uomo animato da una morbosa gelosia l'aggrediva verbalmente nonché fisicamente anche in luoghi pubblici alla presenza di altre persone. In particolare ha descritto le gravissime minacce di morte subite l'episodio nel quale l'uomo l'ha colpita al ginocchio con una mazza di ferro cagionando le lesioni gravi. Le sue dichiarazioni sono corroborate da foto nonché da numerosi file audio acquisiti dalla stessa e trascritti dalla polizia giudiziaria che procedeva. Testimonianti le gravissime e crescenti minacce possene essere dall'indagato ai suoi danni con particolare riferimento al fatto che un'eventuale denuncia sarebbe stata solo la scintilla per compiere gesti ancora più violenti non avendo a quel punto nulla da perdere. Allo stesso modo la madre, la sorella, il fratello e la cugina confermavano di aver assistito a diversi episodi di aggressioni verbali e fisiche nonché di minacce di aver ricevuto in tal senso anche confidenze da parte della persona offesa profondamente spaventata dall'escalation di condotta violenta e minatoria dell'uomo. Sulla base di questi elementi si è dunque ritenuta raggiunta la gravità indiziaria a carico dell'indagato che insieme alle esigenze cautelari hanno legittimato l'adozione della grave misura cautelare adottata. L'uomo è stato tradotto in carcere.